Ilaria Leone, i tre gol forse sono troppi per quanto si è visto in campo, è comunque ottima la tua prestazione? Sì, io ho cercato di fare il mio meglio come hanno fatto tutte le mie compagne, però purtroppo questo non è bastato per portare a casa almeno qualche punto. Quindi anche per te il Firenze fino all'83esimo se l'hai giocata? Sì, abbiamo giocato un'ottima partita, secondo me oggi sia in difesa che in fase d'attacco perché abbiamo anche costruito per caso perché ci poteva essere anche il gol del pareggio, ma abbiamo avuto anche un po' di sfortuna e anche bravura dell'altro portiere. Per martedì come la vedi la partita? Infra settimanale, tanti impegni, però come mentalità come vi presentate dopo questa prova con il Brescia? La partita sarà una partita difficilissima perché loro sono la quinta forza del campionato e quindi cercheranno di fare più punti possibili anche con noi, però noi secondo me arriviamo bene e cerchiamo di levargli qualche punto a loro. Bene, grazie. Grazie.